Episodio 6 del corso di WooCommerce, oggi vediamo le recensioni, sarà un video decisamente veloce, non c'è molto da dire. Allora, intanto qua sotto dovreste trovare le recensioni, io non ce le ho perché le ho disattivate per cominciare appunto questa lezione, quindi qua sotto dovreste avere descrizione, informazioni aggiuntive e poi se andiamo su modifica prodotto, troviamo un attimo indietro, ok, 100%, ci basta andare su avanzate e qua possiamo gestire le varie recensioni per singolo prodotto, poi vedremo come gestirle per tutti i prodotti, quindi da qua possiamo attivare o disattivare le recensioni per il prodotto, io faccio aggiorna e vi dimostro come vado di qua, faccio invio e vedete che compare anche la tab recensioni. Per fare una recensione molto semplice arriva una persona, fa così la sua recensione, bellissima la felpa super calda, invia, la recensione noi la vediamo ma in realtà non è stata ancora confermata, perciò se io vado qua su commenti, ecco qua vedete, dobbiamo approvare o meno, quindi possiamo approvare o non approvare, in questo caso da me è già approvata perché io sono admin, quindi vedete che è già visibile, se dovessi fare non approva io vado qua, vedete che mi dice la tua recensione è in attesa di approvazione, io chiaramente ero l'admin, motivo per cui era già approvata, noi andiamo ad approvare, potremmo anche rispondere, possiamo modificarla, quindi vi rendete conto come possiamo modificare le recensioni se vogliamo, eccola qua, possiamo tornare qui sul nostro prodotto, aggiorniamo e abbiamo la nostra recensione, proviamo a fare invece con un ospite magari, quindi esci, non sono più loggato, torniamo al nostro shop, andiamo su tutti i prodotti, andiamo qua, intanto vedete che c'è una 5 stelle, vedete qua non c'è la recensione, ma qua sì, andiamo sulla felpa super calda, abbiamo una recensione, chiaramente dall'admin, la mia recensione, in questo caso andiamo a mettere 5 stelle, la mia recensione è arrivata, anzi molto buona, molto buona, facciamo così, mi chiede chiaramente il nome e io metto Orazio Querti, perfetto, l'email sarà Orazio Querti at gmail, querti at gmail.it, do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati, per il prossimo commento, no non lo voglio fare, ci tengo la mia privacy, tac, e vedete la tua recensione è in attesa di approvazione, perciò adesso io rifaccio il login, e ci basta andare su prova vcommerce slash vp admin, tac, entriamo con admin, password non ve la dirò mai anche se è in locale, facciamo ricordami così per... siamo dentro, vedete qua abbiamo un commento, quindi le recensioni non arrivano come recensioni, ma arrivano come commenti, abbiamo qua felpa super calda, visualizza prodotto, quando è stata arrivata possiamo fare approva, rispondi, in questo caso se rispondiamo verrà automaticamente approvata, modifica rapida, modifica, noi possiamo fare approva, perfetto, e possiamo, vi faccio vedere, modificare, possiamo letteralmente andare a modificare la recensione, quindi sappiate che potete fare sta cosa, potete anche modificare la valutazione, se volete fare recensioni fake se ne trovano tante di questi giorni, quindi sappiate che potete farlo, non è cosa buona, però è una pratica molto utilizzata nel business. Usciamo qua, direi che possiamo tornare al nostro prodotto, felpa super calda, ed ecco qua abbiamo due recensioni dei clienti, se io clicco qua ci porta giù e abbiamo l'admin che dice quanto è bella e anche il buon Orazio Querti, possiamo andare a aggiungere recensioni all'infinito. E vedete che abbiamo aggiunto la recensione con un tisto totalmente randomico, quindi è entrato sul nostro sito, nemmeno da registrato e ha messo una recensione. Andiamo a vedere le impostazioni delle recensioni, mi chiede ancora il login, admin e poi password, ho detto ricordami per un motivo, ma qua insomma ognuno fa quello che vuole. Ok, magari aggiorniamo, andiamo su WooCommerce, impostazioni, non rapporti, eccoci qua. Andiamo su prodotti, perché chiaramente le recensioni sono sui prodotti, e noi vediamo qua, vedete, recensioni, recensioni, attiva le recensioni, abilita le recensioni sui prodotti, quindi nel momento in cui voi ce l'avete abilitata, potete scegliere se è un prodotto o meno, poi ha la recensione, potete farlo su ciascun prodotto. Se io invece faccio così, salvo le modifiche, torno sulla mia felpa super calda, e vi faccio vedere come non c'è niente, sono state tolte le recensioni. Se io invece torno qua, abilita le recensioni, mi si aprono diverse opzioni aggiuntive che adesso vedremo, io torno qua, e vedete che sono tornate le nostre recensioni, perché di base sono salvate sul database, semplicemente noi in quel momento le stiamo nascondendo, e nessuno può aggiungerle, però quelle che sono state fatte in modo pregresso ci sono, e possiamo nuovamente mandarle a schermo. Andiamo avanti, e direi che andiamo a vedere l'altra opzione, ovvero mostra l'etichetta proprietario verificato nelle varie recensioni, quindi sapere se la persona che ha scritto è una persona verificata. Un'altra cosa che possiamo fare, le recensioni possono essere lasciate solo da proprietari verificati, sì, perché avete visto che chiunque può entrare sul vostro sito e lasciare una recensione. Un'altra cosa, possiamo abilitare o meno le stelle nelle recensioni, io direi di sì perché è la cosa più, tra virgolette, più bella e più facile da vedere nelle recensioni. Al di là di quella che è la spiegazione della recensione, però vedi se un prodotto ha tante una stella, a prescindere dal perché ti rendi conto, quindi già le stelle ci aiutano tantissimo, la valutazione con le stelle deve essere obbligatoria e non opzionale, sì, quindi nel momento in cui tu fai una recensione devi mettere per forza una stella almeno, ok? Una o cinque stelle che siano. Perfetto, direi che possiamo andare sulla nostra felpa supercalda, aggiorniamo, torniamo alle recensioni, abbiamo ancora le recensioni, io esco dall'account, torno al corso WooCommerce, vado su tutti i prodotti, felpa supercalda, provo ad aggiungere una recensione e vedete che non me lo fa inserire solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto, quindi per lasciare una recensione bisogna essere iscritti, avere il proprio account, in questo caso aver effettuato non tanto l'accesso, al di là dell'accesso, ma bisogna aver almeno acquistato il prodotto, perché automaticamente quando poi acquisti noi andremo a generare un utente, quindi da quel momento in poi si potrà lasciare una recensione. Molto bene, quindi questa era, giusto devo rifare il login, andiamo magari da qua, aggiorniamo, vedete ci butta fuori, noi rifacciamo l'accesso, ricordami, perfetto. Quindi questa era la base sulle recensioni, non c'è veramente nient'altro da dire, possiamo gestirle da WooCommerce, impostazioni, prodotti sotto recensioni, possiamo su ogni prodotto andare a definire se vogliamo o meno le recensioni per quel prodotto e poi semplicemente le gestiamo come se fossero banalissimi commenti e io a sto giro voglio eliminare questo commento che non mi interessa. Quindi per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio dove parleremo di come creare un prodotto variabile, quindi le cose cominciano a diventare un po' più interessanti. Sotto in descrizione trovate il link per l'hosting SiteGround se volete mettere online il vostro sito WordPress WooCommerce, che sia, il link per supportare il canale se ci tenete particolarmente e il link per entrare nella community di Telegram e o di Discord. Niente, io vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Ciao ciao!